Il confetto, ieri, oggi e domani, è il tema di un convegno organizzato dalla Delegazione di Sulmona dell'Accademia Italiana della Cucina, guidata da Giovanni Maria Damario, tenuto nell'auditorium San Pampilo del Centro Pastorale Diocesano a Sulmona. Al centro del dibattito, il prodotto tipico di Sulmona, tra tradizione ed innovazione, tra storia e futuro. Come è cambiato il confetto e la sua promozione nei secoli? Come tutelare il prodotto tipico? A queste e ad altre domande hanno risposto i relatori, ciascuno per le proprie competenze, il professor Mario Pelino, docente universitario, il medico Gian Vincenzo D'Andrea e l'avvocato Vittorio Masci. L'obiettivo del convegno, ha affermato Giovanni Damario, è aprire un dibattito sul futuro del confetto, prodotto tipico di Sulmona, e su come conciliare tradizione ed innovazione, valorizzando il sapiente lavoro degli artigiani in una società contemporanea che sembra essere omologata nella globalizzazione. Sono intervenuti il sindaco di Sulmona, Gian Vlango Di Piero, il vescovo Michele Fusco, il presidente della fondazione Carispac, Domenico Taglieri, ha moderato la giornalista Chiara Buccini. Intanto condivido il fatto che quando si parla di Sulmona si parla di confetti, perché il confetto è immediatamente e intuitivamente associato a Sulmona. Devo dire che Sulmona deve, parte della sua notorietà e del suo prestigio, proprio in relazione al fatto di essere la patria dei confetti. C'è una tradizione antichissima dell'industria confettiera sulmonesa, i confetti sulmonesi hanno conquistato nel corso dei decenni, dei secoli, direi, i mercati nazionali e internazionali, e quindi è motivo di grande vanto per la città di Sulmona quello di essere la patria del confetto. Il futuro deve essere quello di legare sempre più il nome di Sulmona ai confetti, perché il confetto è un buon viatico, è un ottimo viatico per la notorietà di Sulmona, ben oltre i confini nazionali. Certamente quando si dice confetti si dice Sulmona, e quando si dice Sulmona si dice confetti. Il binomio è sempre molto forte, dovunque andiamo, in tutti i paesi, anche all'estero, troviamo questo bel binomio. E questa realtà ha una radice molto religiosa, il confetto, non solo perché lo usiamo per tutte le feste religiose, un matrimone, un battesimo, ovunque un anniversario c'è un confetto, un colore, un tipo, un sapore che dà gioia, fa festa. Dall'altro lato perché furono proprio le monache clarisse di Santa Chiara a inventarsi all'inizio questo confetto, questo zucchero, queste mandorle, cominciarono a mettere insieme questi due ingredienti e cominciò un primo confetto. Sono qui come esperto di tecnologia e scienza dei materiali, con le mie competenze, invitato dall'Accademia a fare questa prima presentazione e anche in qualche modo con la mia esperienza nel campo della confetteria. E qual è il futuro, secondo lei, del confetto? Il domani del confetto? Eh, questa è una bella domanda, è l'ultima cosa che metterò tra le diapositive che presento, però ci lascio il punto interrogativo, quindi io delle risposte personali le posso avere, però onestamente è un futuro che non dipende soltanto da noi, dipende un po' da tutti quanti e dipende anche dalla cittadinanza e dipende anche dall'importanza che i sulmonesi e il comprensorio possono dare, vorranno dare a questo prodotto. Quindi non è una risposta che posso dare soltanto io, io posso entrare nell'ambito tecnico, scientifico, questo sì, perché su questo ho competenza. È una delle caratteristiche delle peculiarità di Sulmona, quindi noi dell'Accademia dobbiamo mantenere la territorialità, quindi il meglio del confetto, insieme all'aglio e a Ovidio non ci rappresentano nulla. Qual è il domani? Perché avete scritto ieri, oggi e domani. Qual è il domani del confetto? Domani lo chiediamo a loro, vediamo un pochettino che cosa vuole. Noi oggi lancieremo delle idee e delle proposte, dobbiamo andare avanti, il confetto ha bisogno di passare da una fase iniziale, non deve essere globalizzato e deve avere un futuro che dipenderà dalla interazione di tutti quanti. Parliamo del confetto, ci dicono sul mondo, quindi benvenga anche una iniziativa in questa direzione, perché studi il fenomeno confetto, è un fenomeno antico, ci sta pure qualche cosa che viene detta sul piano dell'utilizzo di questo confetto, quando è stato utilizzato anche al massimo.